con gli echi di un'antica sapienza che vibrano ancora tra la polvere dei secoli grazie a chi ha tramandato queste parole nel tempo e nelle varie civiltà che si sono susseguite vorrei condividere con voi la profezia della ninfa vecu o vegoia straordinariamente attuale mi avvarrò della traduzione ospitata in uno dei numerosissimi libri di giovanni feo il compianto amico che ha dato tantissimo per la conoscenza di quella parte ancora oscura della civiltà etrusca devi sapere che dopo che il mare fu separato dalla terra giove rivendicò per sé la terra dell'etruria e stabilì e ordinò di misurare i terreni e delimitare i campi conoscendo l'avidità degli uomini e la loro brama di terre volle che tutto fosse reso noto attraverso cippi di confine che qualcuno di recentissima nobiltà un giorno per avidità portata dalla fine dell'ottavo secolo a suo vantaggio condolo violerà e toccherà e sposterà ma chi toccherà e sposterà i confini estendendo le sue proprietà e diminuendo quelle di un altro per questo sacrilegio sarà condannato dagli dèi se lo faranno i plebei la loro sottomissione si muterà in una peggiore ma se avverrà con la complicità di un patrizio la sua casa sarà sradicata molto presto e la sua gente morirà inoltre gli agitatori saranno colpiti da malattie e da ferite terribili e le loro membra non avranno più forza allora anche la terra sarà sconvolta da tempeste e da turbini di vento nella più completa rovina i frutti saranno spesso danneggiati e cadranno giù per le piogge e la grandine seccheranno per la siccità saranno uccisi dalla ruggine molte le divisioni nel popolo sappiate che accadranno queste cose quando saranno commessi tali sacrilegi per questo non essere ipocrita né falso poni nel sacra scienza poni nel tuo cuore il cuore sede di tutto un abbraccio